Primo round. Memento mori. Il cancro. Dopo aver saputo della propria malattia, Jobs ipotizzò che il cancro avesse cominciato a covargli dentro nello stressante anno 1997-1998, quando gli era toccato gestire sia la Apple sia la Pixar. Mentre faceva la spola in auto tra le due aziende, gli vennero calcoli renali e altri disturbi e tornava a casa così esausto che non riusciva quasi a parlare. Fu probabilmente allora che cominciò a crescermi dentro il cancro, perché il mio sistema immunitario all'epoca era alquanto indebolito, ha dichiarato. Non vi è prova che lo stress o un sistema immunitario indebolito provochino il cancro. Tuttavia i problemi ai reni portarono indirettamente all'individuazione del male. Nell'ottobre del 2003, Jobs incontrò per caso l'urologa che lo aveva curato per i calcoli e lei gli consigliò di farsi fare un'attacca dei reni e dell'uretere. Erano passati 5 anni da quando si era sottoposto all'ultima attacca. Poiché la nuova tomografia rivelò che i reni erano sani, ma c'era un'ombra sul pancreas, l'urologa gli disse di prenotare un'attacca del pancreas. Lui non lo fece. Come sempre era molto bravo a ignorare con pervicacia gli input che non voleva elaborare. Ma la dottoressa insistette. È molto importante, Steve, gli disse pochi giorni dopo. Deve assolutamente sottoporsi all'esame. Il suo tono di voce era abbastanza serio da indurla a obbedire. Jobs andò in clinica una mattina presto e, dopo aver studiato le immagini, i medici gli dedero la cattiva notizia, che si trattava di un tumore. Uno di loro gli consigliò addirittura di mettere ordine nei suoi affari, un modo educato di dirgli che forse aveva solo pochi mesi di vita. Quella sera i medici eseguirono una biopsia infilandogli in golo un endoscopio che, arrivando fino ai visceri, permise loro di introdurre un ago nel pancreas e prelevare alcune cellule tumorali. Lauren Powell ricorda che trattennero a stento la commozione vedendo i risultati. Risultò essere un tumore neuroendocrino pancreatico, originatosi dalle cellule delle isole pancreatiche, un cancro raro ma a crescita più lenta, che aveva quindi più probabilità di essere curato con successo. Era una fortuna che fosse stato individuato così precocemente come effetto collaterale di un controllo renale di routine e che potesse quindi essere rimosso chirurgicamente prima che si diffondesse attraverso metastasi. Una delle prime persone a cui Jobs telefonò fu Larry Brilliant, che aveva conosciuto per la prima volta nell'ashram in India. «Credi ancora in Dio?» gli chiese. Brilliant disse di sì e discussero delle molte vie per arrivare a Dio che erano state insegnate loro dal guru hindu Nim Karoli Bhava. Poi Brilliant gli chiese cosa c'era che non andava. «Ho un cancro», rispose Jobs. «Art Levinson, membro del consiglio di amministrazione della Apple stava presiedendo una riunione di consiglio della sua azienda, la Genetech, quando sentì squillare il telefono e vide sul display che si trattava di Jobs. Appena vi fu una pausa lo richiamò ed ebbe da lui la notizia del tumore. Poiché aveva studiato biologia del cancro e la sua azienda produceva farmaci antitumorali, diventò un consigliere di Jobs. Altrettanto lo divende Andy Grove, della Intel, che aveva combattuto e vinto un tumore alla prostata. Jobs lo chiamò quella domenica e Grove andò a casa sua dove rimase due ore. Con orrore di sua moglie e dei suoi amici, Jobs decise di non farsi asportare il tumore chirurgicamente, l'unica terapia medica accreditata in un caso del genere. «Non volevo assolutamente che mi aprissero la pancia, per cui cercai di vedere se c'erano altre cose capaci di guarirmi», mi ha detto a anni di distanza con una punta di rimpianto. Nel caso specifico si mise a osservare una rigorosa dieta vegana consumando grandi quantità di carote fresche e succhi di frutta. A quel regime alimentare aggiunse l'agopuntura, svariati rimedi filoterapici e ogni tanto altri trattamenti che trovo in internet o consultando diverse persone, tra cui un sensitivo in tutto il paese. Per qualche tempo si lasciò influenzare da un dottore che dirigeva una clinica della California del Sud, in cui si praticavano terapie naturali basate per lo più su erbe coltivate senza antiparassitari, dieta a base di soli succhi di frutta, uso frequente di purghe, idroterapia e l'espressione di tutti i sentimenti negativi. Il problema era che non era pronto a farsi aprire la pancia, ricorda la Powell. È difficile convincere qualcuno a farsi tagliare. Lei però ci provò. Il corpo esiste per servire lo spirito, gli disse. Gli amici di Steve lo esortarono più volte a sottoporsi all'intervento chirurgico e alla chemioterapia. Steve parlò con me quando cercava di curarsi mangiando stronzate e radici di stronzate e io gli dissi che era pazzo, ricorda Grove. Levinson rammenta che supplicava ogni giorno Jobs di farsi curare ed era immensamente frustrante non riuscire a connettermi con lui. Gli scontri di opinioni rischiarono quasi di guastare l'amicizia. Non è così che funziona il cancro, gli diceva quando Jobs gli parlava delle sue terapie alimentari. Non puoi risolvere il problema senza la chirurgia e senza bombardare l'organismo di farmaci tossici. Perfino il dietologo Dean Ornish, pioniere dei metodi alternativi e nutrizionali di cura delle malattie, fece una lunga passeggiata con Jobs per convincerlo che a volte i metodi tradizionali erano quelli giusti. Lei ha realmente bisogno di un intervento chirurgico, gli disse. Dall'epoca della diagnosi, nell'ottobre del 2003, l'ostinazione di Jobs durò nove mesi. Parte di quel caparbio atteggiamento era dovuto al lato oscuro del famoso campo di distorsione della realtà. Credo che Steve desideri a tal punto che il mondo sia in un certo modo che decreta che così sia, riflette Levinson. A volte il meccanismo non funziona, la realtà non perdona. Il lato negativo della straordinaria capacità di concentrazione di Jobs era la sua spaventosa volontà di escludere dall'orizzonte le cose di cui non voleva sapere. Tale caratteristica aveva portato a molte delle sue grandi innovazioni, ma poteva anche ritorcergli si contro. Ha questa capacità di ignorare le cose che non vuole affrontare, spiega sua moglie. È un suo meccanismo congenito, si trattasse di argomenti personali connessi alla famiglia e al matrimonio, di problemi professionali riguardanti l'ingegneria o le sfide commerciali o di questioni di salute e cancro. A volte Jobs per la sua stessa struttura mentale svicolava. In passato era stato premiato per quello che sua moglie chiamava il suo pensiero magico, il suo presumere di potere, con la forza di volontà, fare in modo che le cose fossero come desiderava. Ma il cancro non funzionava così. La Paola aurolò tutte le persone che gli erano vicine, compresa sua sorella Mona Simpson, perché cercassero di riportarlo alla realtà. Finalmente nel luglio del 2004 fu messo davanti a un'attacca che mostrava come il tumore fosse aumentato e se fosse probabilmente diffuso, e questo lo costrinse ad affrontare la realtà. Jobs si sottopose all'intervento chirurgico sabato 31 luglio 2004 al Medical Center della Stanford University. I medici non adottarono l'intera procedura di Whipple, che prevede la rimozione, oltre che del pancreas, di gran parte dello stomaco e dell'intestino. Rifletterono se ricorrervi, ma decisero di optare per una metodica meno radicale, una Whipple modificata che comportava l'asportazione solo di parte del pancreas. Il giorno dopo Jobs, usando il powerbook collegato a un airport express nella sua stanza d'ospedale, inviò ai suoi dipendenti un email in cui annunciava di aver subito un intervento chirurgico. Assicurò loro che il tipo di cancro pancreatico da cui era affetto rappresenta solo l'1% di tutti i casi di cancro del pancreas diagnosticati ogni anno e si cura con la chirurgia se è diagnosticato in tempo. Il mio lo è stato. Disse che non sarebbero occorse chemioterapia o radioterapia dopo l'operazione e che prevedeva di tornare a lavorare in settembre. Finché sono via, ho chiesto a Tim Cook di assumersi la responsabilità delle operazioni quotidiane dell'Apple, di modo che non perderemo un solo colpo, aggiunse. Sono sicuro che farò troppe telefonate ad alcuni di voi in agosto e non vedo l'ora di vedervi in settembre. Un effetto collaterale dell'operazione sarebbe diventato un problema per Jobs, a causa delle sue diete ossessive e della strana routine di purghe e digiuni che praticava fin da quando era adolescente. Poiché il pancreas secerne gli enzimi che consentono allo stomaco di digerire il cibo e assorbire le sostanze nutritive. La sua parziale asportazione rende più difficile assimilare una quantità di proteine sufficiente. Ai pazienti si consigliano pasti frequenti e di seguire una dieta nutriente con un'ampia varietà di proteine della carne e del pesce e di latticini prodotti con latte intero. Jobs non lo aveva mai fatto e non lo avrebbe mai fatto. Rimase in ospedale due settimane, quindi lottò per recuperare le forze. Ricordo che una volta tornato a casa, sedevo su quella sedia ad ondolo, mi ha detto indicando la sede del soggiorno. Non avevo la forza di camminare. Mi ci volle una settimana per riuscire a girare intorno all'isolato. Mi imposi di arrivare ai giardini a qualche isolato di distanza, poi ancora più lontano, e nell'arco di sei mesi riacquistai quasi integralmente l'energia. Purtroppo il cancro si era diffuso. Durante le operazioni i medici avevano trovato tre metastasi al fegato. Se lo avessero operato nove mesi prima, forse avrebbero potuto asportare il tumore evitando che si diffondesse. anche se non ne avrebbero mai avuto la certezza. Jobs iniziò la camioterapia, che complicò ulteriormente i suoi problemi alimentari. La laurea ad onore della Stanford. Jobs tenne segreto che continuava a combattere contro il cancro, disse a tutti che era guarito, così come aveva tenuto segreta la diagnosi di tumore che gli era stata fatta nell'ottobre del 2003. Tale riservatezza non stupiva, faceva parte della sua natura. A stupire di più fu la decisione di parlare in maniera molto personale e pubblica della sua salute, benché non tenesse quasi mai discorsi se si escludevano le presentazioni accuratamente organizzate dei suoi prodotti. Nel giugno del 2005 accettò l'invito della Stanford University a tenere un discorso in occasione del conferimento della laurea ad onorem. Era di umore riflessivo dopo la diagnosi di cancro e stava per compiere 50 anni. Telefonò al brillante sceneggiatore Aaron Sorkin, il telefilm Codice d'Onore, la serie televisiva West Wing, tutti gli uomini del presidente, perché lo aiutasse a scrivere il testo. Sorkin accettò e Jobs gli mandò alcuni suoi pensieri. Questo fu in febbraio e non ne seppi più nulla. Allora gli scrive un'email di aprile e lui dice ah sì e gli mando qualche altro pensiero, ricorda Jobs. Alla fine gli telefono, lui continua a dire sì, ma alla fine arriva all'inizio di giugno e non ha ancora ricevuto una riga. Jobs si fece prendere dal panico. Aveva sempre preparato lui i testi delle sue presentazioni, ma non aveva mai scritto un discorso per il conferimento della laurea. Una sera sedetta alla scrivania e se lo scrisse da solo, senza altro aiuto che il confronto delle idee con sua moglie. Ne venne fuori un discorso molto intimo e semplice, che aveva l'impronta sobria e personale del perfetto prodotto di Steve Jobs. Alex Halley disse una volta che il modo migliore di iniziare un discorso è lasciate che vi racconti una storia. Nessuno muore dalla voglia di ascoltare una conferenza, mentre tutti amano sentire e narrare una storia. Quello fu il metodo che scelse Jobs. Oggi voglio raccontarvi tre storie della mia vita, esordì. Tutto qui, niente di speciale, solo tre storie. Nella prima faceva riferimento alla sua rinuncia al Reed College. Potei smettere di andare alle lezioni che dovevo per forza frequentare, ma che non mi interessavano, e cominciare a seguire quelle che mi parevano molto più interessanti. Nella seconda osservava che essere stato licenziato dalla Apple si era rivelato un vantaggio. La pesantezza del successo fu rimpiazzata dalla leggerezza di sentirsi di nuovo un principiante, meno sicuro di tutto. Gli studenti erano insolitamente a te qualcosa da perdere. Siamo già nudi. Non c'è motivo di non seguire il proprio cuore. Fu l'abile minimalismo a conferire al discorso la sua semplicità, la sua purezza, il suo fascino. Per quanto si cerchi nelle antologie o in YouTube, non si troverà miglior discorso per il conferimento della laurea. Altri saranno forse stati più importanti, come quello in cui ad Harvard nel 1947 George Marshall annunciò un piano per ricostruire l'Europa, ma nessuno è mai stato più ispirato. Grazie a tutti e aver glattato il resto. Benef erano le parole, «Stay Hungry, Stay Foolish». It was their farewell message as they signed off. Stay Hungry, Stay Foolish. And I have always wished that for myself. And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you. Stay Hungry, Stay Foolish. Thank you all very much. Un leone di 50 anni Jobs aveva festeggiato i 30 e i 40 anni con le star di Silicon Valley e varie altre celebrità ma quando nel 2005 compì 50 anni ed era reduce da un'operazione chirurgica per l'asportazione di un tumore il party a sorpresa che sua moglie organizzò per lui aveva per protagonisti solo i suoi amici più intimi e i suoi colleghi ebbe come teatro la confortevole casa di San Francisco di alcuni amici e la grande chef Alice Waters preparò un salmone scozzese con couscous e una varietà di verdure dell'orto fu una bella festa molto calda e intima in cui tutti, bambini compresi, riuscirono a stare insieme, ricorda la Waters lo spettacolo fu un'improvvisazione comica fatta dal cast di Whose Line Is It Anyway? erano presenti l'amico intimo di Jobs, Mike Slade e i colleghi della Apple e della Pixar tra cui Lasseter, Cook, Schiller, Klau, Rubinstein e Tevanian Cook aveva diretto molto bene l'azienda in assenza di Jobs aveva fatto in modo che i capricciosi attori della Apple continuassero a recitare bene ed evitato di mettersi sotto i riflettori Jobs amava, almeno fino a un certo punto, le personalità forti ma non aveva mai realmente dato pieno potere a un vice o diviso con qualcun altro il palcoscenico era difficile essere il suo sostituto si era dannati se si brillava troppo e lo si era se si brillava troppo poco Cook era riuscito a navigare in quelle insidiose acque basse era calmo e deciso quando era al comando ma non cercava di mettersi in mostra o mietere lodi alcuni si risentono del fatto che a Steve venga attribuito il merito di tutto ma a me di questo non è mai fregato un cazzo dice detto francamente preferisco che il mio nome non compaia mai sulla carta quando Jobs tornò al suo congedo per motivi di salute Cook riprese il ruolo di colui che faceva combaciare perfettamente le parti mobili dell'Apple e che rimaneva imperturbabile quando Jobs dava in escandescenza imparai una cosa su Steve la gente scambiava a torto alcuni suoi commenti per far neticazioni e negatività mentre erano solo il suo modo di esprimere la passione così io li ho sempre interpretati e non ho mai preso come offese personale le cose che diceva sotto molti aspetti Cook era l'immagine speculare di Jobs imperturbabile, di umore costante e come il dizionario del Next avrebbe osservato più saturnino che mercuriale io sono un buon negoziatore e lui è probabilmente migliore di me perché è un tipo tranquillo ha detto Jobs a distanza di tempo dopo aver aggiunto qualche altra lode ha espresso pacatamente una riserva una riserva seria anche se per lo più sottaciuta ma non sono sicuro che di per sé sia un individuo da prodotto nell'autunno del 2005 Jobs sondò Cook per vedere se era disposto a diventare direttore generale dell'Apple stavano volando insieme in Giappone e Jobs in realtà non glielo chiese semplicemente si girò verso di lui e disse ho deciso di nominarti direttore generale circa in quell'epoca due vecchi amici di Jobs, John Rubinstein e Avi Tevanil i luogotenenti dell'hardware e del software che erano stati assunti durante la riorganizzazione del 1997 decisero di andarsene Tevanil aveva fatto un sacco di soldi ed era pronto a smettere di lavorare Avi è un tipo brillante e bravo, molto più concreto di Ruby e per niente affetto da ipertrofia dell'io, dice Jobs fu una grande perdita per noi quando se ne andò è una persona unica, un genio il caso di Rubinstein fu un po' più controverso era molto irritato per l'ascesa di Cook ed era sfinito dopo aver lavorato per nove anni sotto Jobs sempre più spesso i due si scontravano urlandosi addosso c'era anche un problema molto concreto Rubinstein litigava spesso con Johnny Ive che un tempo lavorava per lui e adesso rendeva conto del suo operato direttamente a Jobs Ive osava sempre molto con design splendidi ma difficilmente compatibili con l'ingegneria Rubinstein aveva il compito di far costruire l'ardori in maniera pratica sicché spesso si impuntava, rifiutandoli era un uomo prudente per natura in fin dei conti, Ruby viene dall'HP, dice Jobs e non ha mai scavato a fondo nelle cose non è aggressivo c'era per esempio il caso delle viti che reggevano i manici del Power Mac G4 Ive decise che dovevano avere una certa forma e una certa lucidatura ma Rubinstein ritenendo che così sarebbero venute a costare una cifra astronomica e avrebbero fatto rimandare la produzione di varie settimane pose un veto al progetto suo compito era consegnare i prodotti il che significava fare dei compromessi siccome era convinto che quel modo di procedere ostacolasse l'innovazione Ive scavalcava Rubinstein rivolgendosi direttamente a Jobs e lo aggirava parlando con gli ingegneri di medio livello Ruby mi diceva che il mio progetto avrebbe fatto ritardare l'uscita io ribattevo che a mio avviso eravamo in grado di attuarlo e sapevo che era vero perché avevo lavorato alle sue spalle con i team del prodotto ricorda Ive in quello e in altri casi Jobs si schierò con Ive qualche volta Ive e Rubinstein arrivarono al punto di darsi degli spintoni e per poco non vendono le mani alla fine Ive disse a Jobs o lui o me Jobs scelse Ive Rubinstein ormai era pronto ad andarsene aveva comprato con sua moglie una tenuta in Messico e voleva avere il tempo libero per costruirvi una casa alla fine andò a lavorare per la Palma che stava cercando di emulare l'iPhone dell'Apple Jobs era così furioso che la Palma assumesse alcuni dei suoi ex dipendenti che se ne lamentò con Bono cofondatore di una private equity guidata dall'ex direttore amministrativo e finanziario dell'Apple Fred Anderson il quale aveva acquisito una partecipazione di controllo della società Bono rispose a Jobs con un messaggio Datti una calmata è come se i Beatles telefonassero perché Herman e gli Hermits hanno assunto un membro della troupe della loro tournée Jobs in seguito ammise di aver reagito con troppa vemenza il fatto che la Palma abbia fallito miseramente lenisce quella ferita osserva Jobs riuscì a mettere insieme un nuovo gruppo manageriale meno litigioso e un po' meno sottomesso i suoi membri oltre a Cook e Ive erano Scott Forsall che dirigeva il software iPhone Phil Schiller direttore marketing Bob Mansfield che si occupava dell'hardware Mac Eddie Q che gestiva i servizi internet e Peter Oppenheimer che era il direttore amministrativo e finanziario per quanto vi fosse un'apparente omogeneità nella squadra di dirigenti erano tutti uomini bianchi di mezza età la gamma degli stili era ampia Ive era emotivo e tradiva le sue passioni mentre Cook era freddo come l'acciaio tutti sapevano quello che ci si aspettava da loro dovevano essere deferenti con Jobs ma nel contempo saper criticare le sue idee ed essere disposti a discuterne un equilibrio difficile da mantenere ma ciascuno lo mantenne bene mi resi subito conto che se non esprimevi le tue opinioni lui ti massacrava dice Cook Steve assume posizioni contrari per fomentare la discussione perché discutere porta a volte a un risultato migliore perciò se si fa fatica di sentire da lui non si ha alcuna speranza di sopravvivere la sede principale delle discussioni a ruota libera era la riunione del gruppo dirigente lunedì mattina che iniziava alle 9 e si protraeva per 3 o 4 ore Cook analizzava per una decina di minuti i grafici che mostravano l'andamento degli affari dopodiché seguiva un'articolata discussione su ciascun prodotto dell'azienda ci si concentrava sempre sul futuro che cose avrebbe dovuto fare nell'imminente futuro ciascun prodotto quali nuove cose bisognava sviluppare attraverso la riunione Jobs trasmetteva ai suoi il senso di una missione Apple condivisa questo controllo centralizzato faceva apparire l'azienda strettamente integrata come un buon prodotto Apple e preveniva le lotte tra le varie divisioni che funestavano le aziende decentralizzate per Jobs la riunione del lunedì serviva anche a far sì che il gruppo si concentrasse meglio sugli obiettivi nella comune agricola di Robert Friedland il suo compito era stato portare i mail perché rimanessero forti e quella era diventata una metafora delle sue potature all'Apple invece di esortare ciascuna squadra a far proliferare le linee di prodotti in base a considerazioni di marketing o di incoraggiare il fiorire di mille idee Jobs auspicava che l'Apple si focalizzasse solo su due o tre priorità alla volta nessuno sa, come lui spegnere il rumore nell'ambiente intorno dice Cook questo gli consente di concentrarsi su alcune cose e dire di no a molte altre pochissime persone sono veramente capaci di farlo dice la leggenda che nell'antica Roma quando un generale vittorioso sfilava con il suo esercito per le strade a volte era seguito da un servo il cui compito era ripetergli memento mori ricordati che un giorno morirai rammentargli la mortalità aiutava l'eroe a continuare a vedere le cose secondo l'ottica giusta e gli instillava una certa umiltà i medici avevano comunicato a Jobs il memento mori ma non erano riusciti a instillargli l'umiltà anzi una volta ripresosi dall'intervento egli tornò a ruggire con più passione che mai quasi ritenesse di avere un tempo limitato per compiere la sua missione come aveva lasciato capire nel discorso di Stanford la malattia gli aveva ricordato che non aveva niente da perdere sicché gli conveniva procedere a tutta velocità era tornato con un senso di missione dice Cook anche se adesso dirigeva una grande industria continuava a fare mosse audaci che credo nessun altro avrebbe usato fare per qualche tempo si credette di vedere segni di uno stile di comportamento meno estremo o almeno si nutrì la speranza che Jobs fosse cambiato che affrontare il cancro e compiere 50 anni lo avesse reso meno brutale quando era arrabbiato subito dopo essere tornato dall'operazione non si dedicò troppo allo sport di umiliare gli altri ricorda Tevanyan se era scontento magari urlava si infuriava e diceva parolacce ma non lo faceva in modo da distruggere completamente l'interlocutore cercava solo di indurlo a lavorare meglio Tevanyan riflette un attimo mentre parla poi precisa che c'era un'eccezione alla nuova tendenza tranne quando pensava che l'interlocutore fosse davvero incompetente e dovesse andarsene il che ogni tanto accadeva alla fine però la brutalità riemerse quasi tutti i suoi colleghi vi si erano ormai abituati e avevano imparato a sopportarla ma quello che li turbava di più era vedere la sua ira riversarsi sugli sconosciuti una volta entrambe in un negozio Whole Foods di prodotti naturali a prendere un frullato di frutta fresca ricorda Ive l'anziana signora al banco si mise a farlo e lui la aggredì criticando il modo in cui lo preparava in seguito però si lasciò sfuggire parole di solidarietà è vecchia e preferirebbe non fare questo lavoro disse non collegava i due concetti era un purista in entrambi i casi durante un viaggio a Londra con Jobs Ive ebbe l'ingrato compito di scegliere l'albergo optò per l'Empel un tranquillo hotel di charme a 5 stelle il cui sofisticato minimalismo pensava sarebbe piaciuto molto a Jobs ma un attimo dopo che si erano registrati tremò sentendo il suo telefono squillare odio la mia stanza si billò Jobs è una merda andiamocene così Ive raccolse la valigia e andò alla reception dove Jobs disse bruscamente allo sbalordito impiegato quello che pensava dell'albergo Ive osserva che la maggior parte della gente lui compreso in genere non dice a chiare lettere quello che pensa quando si trova davanti a un prodotto scadente perché vuole riuscire simpatica il che di fatto è un segno di vanità osserva è una spiegazione troppo indulgente e in ogni caso una simile delicatezza non era tra le caratteristiche di Jobs poiché Ive è per natura una gran brava persona si chiedeva perché Jobs che gli piaceva molto si comportasse così una sera in un bar di San Francisco protendendosi verso di me ha cercato con sincera emozione di analizzare il problema è un uomo molto molto sensibile e questa sensibilità è una delle cose che rendono il suo comportamento antisociale e la sua sgarbataggine così incomprensibili capisco perché siano rudi le persone coriace e insensibili ma non perché lo siano le persone sensibili una volta gli chiesi perché si arrabbiasse tanto per questo o quello disse ma non resto arrabbiato a lungo ha questa tendenza molto infantile a infuriarsi per le cose ed è vero che non serva la collera a lungo ma penso francamente che altre volte sia molto frustrato e che il suo modo di raggiungere la catarsi sia ferire qualcuno credo ritenga di avere la libertà e il diritto di farlo è convinto che le normali regole dell'interazione sociale non valgano per lui poiché è estremamente sensibile sa molto bene come fare del male a qualcuno come colpirlo nei suoi punti più deboli e lo ferisce non molto spesso ma a volte lo fa ogni tanto un collega saggio prendeva in disparte Jobs e cercava di farlo calmare Lee Clough era un maestro in questo Steve posso parlarti? diceva pacato quando Jobs umiliava qualcuno pubblicamente andava nell'ufficio di Jobs e gli spiegava quanto sodo lavorassero tutti quando li umili l'effetto è più deprimente che stimolante disse durante una di quelle remanzine Jobs allora si scusava e diceva di capire poi però tornava a sfottere a sangue le persone è che sono fatto così diceva in una cosa tenuò davvero la propria intransigenza l'atteggiamento verso Bill Gates la Microsoft aveva onorato l'impegno preso nel 1997 quando aveva accettato di continuare a sviluppare molto software per il Macintosh inoltre non essendo riuscita fino ad allora a replicare la strategia del lab digitale dell'Apple stava diventando meno temibile come concorrente Gates e Jobs avevano un approccio assai diverso ai prodotti e all'innovazione ma la rivalità aveva prodotto in ciascuno di loro una straordinaria autocoscienza al convegno All Things Digital del maggio 2007 i columnist del Wall Street Journal Walt Mossberg e Kara Swisher si diedero ad affare per averli entrambi in un'intervista congiunta Mossberg invitò prima di tutto Jobs che non partecipava quasi mai a quel tipo di manifestazione e si stupì di sentirgli dire che sarebbe andato solo se fosse stato presente anche Gates saputo questo anche Gates accettò il programma per poco non andò a monte quando Gates nel corso di un'intervista rilasciata a Stephen Levy di Newsweek esplose sentendosi chiedere dal giornalista che cosa pensava degli spot televisivi Mac contro PC in cui gli utenti Windows rappresentati come sciocchi tontoloni venivano presi in giro e il Mac è rappresentato come il prodotto più alla moda non so perché si comportino come se fossero superiori disse Gates cominciando a scaldarsi conta la sincerità in queste cose o essere alla moda significa solo mentire spudoratamente a ogni piesso spinto non c'è un gambo di verità in tutto questo Levy gettò altra benzina sul fuoco chiedendogli se il nuovo sistema operativo Windows vista non avesse copiato molte caratteristiche del Mac se le interessano i fatti esamini bene il sistema e guardi chi è stato il primo a dargli certe caratteristiche rispose Gates se invece vuole solo dire Steve Jobs ha inventato il mondo e il resto è venuto dopo prego si accomodi Jobs chiamò Mossberg e disse che considerato quanto Gates aveva detto a Newsweek non sarebbe stato in alcun modo proficuo che lui e Gates comparissero insieme sul palco ma Mossberg riuscì a sistemare la faccenda voleva che l'incontro serale tra i due non fosse un dibattito ma una discussione cordiale tuttavia tale prospettiva apparve meno probabile quando Jobs assestò un colpo alla Microsoft durante un'intervista rilasciata a Mossberg qualche ora prima dell'evento serale previsto quando il giornalista osservò che il software iTunes dell'Apple per i computer Windows era estremamente popolare Jobs commentò ironico è come dare un bicchiere di acqua ghiacciata a qualcuno che brucia all'inferno così quando fu ora per Gates e Jobs di vedersi in camerino prima dell'incontro pubblico sul palco quella sera Mossberg era preoccupato Gates arrivò per primo con il suo assistente Larry Cohen che lo aveva informato della battuta fatta da Jobs qualche ora prima quando Jobs entrò pochi minuti dopo afferrò una bottiglia di acqua dal secchio del ghiaccio e si sedette dopo qualche istante di silenzio Gates disse senza sorridere allora immagino di essere il rappresentante dell'inferno Jobs non rispose ma abbozzò uno dei suoi sorrisi ironici e gli porse l'acqua ghiacciata Gates si rilassò e la tensione si allentò il risultato fu un affascinante duello in cui ciascun ragazzo prodigio dell'era digitale parlò con cautela e poi con calore dell'altro particolare e memorabile i due diedero risposte sincere quando l'esperta in strategia digitale informatica aziendale Lise Bayer che era presente tra il pubblico chiese cosa ognuno avesse imparato osservando l'altro beh darei chissà che cosa per avere il gusto di Steve rispose Gates si udì una risatina nervosa come era noto dieci minuti prima Jobs aveva detto che non gli piaceva Microsoft perché era del tutto priva di gusto ma Gates disse che parlava sul serio Jobs osservò aveva un gusto intuitivo innato che esercitava sia con le persone sia con i prodotti ricordò che loro due in passato si erano seduti insieme a commentare il software che Microsoft faceva per il Macintosh vedevo Steve prendere le decisioni in base a un senso delle persone e del prodotto che io vedete stento anche solo a spiegare lui fa le cose in modo diverso un modo che credo sia magico e se così è davvero tanto di cappello Jobs fissava il pavimento in seguito mi ha detto che era mutolito per l'onestà e il garbo del giudizio di Gates lui mostrò altrettanto onestà ma non altrettanto garbo quando venne il suo turno descrisse il grande hiato tra la versione della Apple che puntava a costruire i prodotti integrati da utente a utente e l'apertura di Microsoft che dava licenza del suo software a produttori di hardware in competizione tra loro nel mercato musicale l'approccio integrato come era evidente nel suo pacchetto iTunes iPod si era rivelato migliore disse mentre l'approccio dissociato della Microsoft risultava migliore del mercato del personal computer una domanda che sollevò in maniera estemporanea fu quale approccio avrebbe funzionato meglio per i telefoni cellulari poi fece un'osservazione acuta quella differenza nella filosofia del design disse aveva reso lui e l'Apple meno capaci di collaborare con le altre aziende siccome Wals e io fondamo la compagnia basandoci sull'idea di fare sia l'hardware sia il software non fumo molto bravi ad associarci con gli altri e credo che se l'Apple avesse avuto un po' più di spirito collaborativo nel suo DNA le avrebbe fatto solo bene